La sesta serata giallorossa attorita di Berina. Magica Roma! Buonasera! Buonasera! Questo è lo staffe, parte dello staffe. Questo è un grande amico mio giallorosso. Stasera grande festa del popolo, popolo giallorosso con tanti cugini che sono ben accetti. Questa è parte dello staffe, la biglietteria. Ciao Aldo! Ciao Aldo! Sì, va bene, va bene. Non ho capito che devo fare, se mi spieghi. Grazie, classe. È il primo laziale di... È il cugino, questo è il cugino. È il primo laziale di Berina, è preso a me. È un bel accetto. Più semo e meglio stiamo, pla. Questa è la fila, è la processione. Questo è un altro amico dell'Inter. Grazie Antonio! Più semo e meglio stiamo. Forza Roma stasera! Ciao! Ciao! Grazie al Presidente, un attimo Presidente, questa è la sesta serata, siccome è stata increscendo l'organizzazione, stannoci stupirete. Speriamo! Eh, dice qualcosa, dico qualcosa al popolo romanista, che questo è un video ufficiale. Addirittura? Sì, sì, dico qualcosa al popolo romanista, senti ai cugini e a quelli dell'altra squadra e ospiti, che io dimo più semo e meglio stiamo. Bravo, perfetto! Forza Roma! Perfetto! Grazie Presidente! Grazie a te! Questo è Giordano, grande giallorosso, forza Roma! Certo, forza Roma! Questa è Simona, che stasera ci stupirà con i fumoggini e le sbandierate. Un grido, un grido a Simona! Forza Roma! Brava! Questo è lo staffe, ciao! Sottolino! Ciao, Tonino, dello staffe giallorosso! E' bello, va che c'è un'altra prima! Questa è Marina, dello staffe, vi sto presentando lo staffe. Buonasera! 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 Grande staffe giallorosso, grande! Grande! Forza Roma! Sempre! Aldo! Eh, beh, poi mi devi concedere, eh! Un tacco a primo, diciamo! Ah, il grande cugino! Ciao, Guggi! Ciao! Più seme e meglio siamo! Certo! Vai! Mi avvicino allo staffe che sta preparando le cibarie. Grande staffe! Ma guardate che professionalità! Questi sono i grandi giallorossi! Ciao! 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 Forza Roma! Sempre! Con le sarcicce! Ecco il padellone delle sarcicce! Ciao, sì! Ciao, sì! Grande! Buonasera, buonasera! Buonasera! Grande staffe! Eh, anche lei ha arruolato lo staffe! Bella! Vabbè il sorriso in camera! Aspetta che... Vabbè il sorriso, girate! Vabbè, girate! È poco all'altro! Senti, avete i cuochi lì che stanno a condire i maccaroni! Questi sono i maccaroni! Oh! Ecco i lati, eh! I condannati al girone di inferno! Vai, grande Massimo! Sambigliamento! Oh! Guarda, guarda come gira lì che professionalità! Ma sei un grande! Guarda che fuoco! Porca miseria! Porco! Guarda che leggera! Oh, ragà! A Roma ha vinto 6 a 0! 3 gol destro! 2 Osvaldo! E 1 Nico Lopez! Un gran gol! Fantastico! Ecco Aldo, che è del club Vitorita Tiberina, Roma Club! È grande organizzatore! Un attimino, due parole al popolo! Il secondo solo che vado a portare questi massogli! Oh, ecco un altro dello staff! Capità? Ci siamo pettinati bene? Guarda, chi è una mia! Oggi, adieu! Buongiorno! 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 Due parole qui al popolo giallorosso e anche ai cugini che stanno qui con noi oggi e a quelli delle altre squadre. Questa è la quinta, è la sesta, la sesta serata giallorossa, che sta da sempre increscendo tutti gli anni. E' oramai un appuntamento fisso. Che dici dei romanisti, le torite di Berino? Ma io ai romanisti non dico niente, ringrazio invece i laziali, ringrazio gli interisti perché vengono tutti, guarda. Visto che loro sanno che noi quando facciamo le feste non parliamo mai contro gli altri, ma facciamo la festa per noi. E' una grande festa di popolo. Una grande festa di popolo e di aggregazione, guarda. E noi non potremmo solo che ringraziarvi. Grandi, siete grandi e stasera ci divertiamo tutti insieme. Speriamo. Forza Roma. Buon divertimento a tutti. Stiamo facendo il filmino ufficiale del Roma Club Torita di Berina. E' una grande serata. Buon divertimento a tutti. Grazie. Allora che dici? Forza Roma. Grande. Grazie. Bruttissimo. A sé. Brutto Stefanaccio che ha insaiato. Senti, senti, ti devo intervistare. Allora, lui è la star della serata che fa la serata brasilera con ballerine. No, così. Eh? Ma so, ballerine o ballerini? Non si sa. L'ho visto. Sì, siccome in anno mi è capitato da ballacce. E ci hai trovato Paolo. E mi ha detto, gire di, e io sono scappato. No? Tu sanno che ci dici. Senti, ti devo fare una domanda indiscreta. Eh? Tu, quanta, questa è la sesta serata giallorossa. Tu mi sei fatta tutte e sei. Più altre, tutte e sei, più, no, mi manca una. Ah, cinque ne hai fatte. Cinque e sei, più quella ristorante. Io ci ho avuto sempre una curiosità. Eh? Tu sei conosciuto, conosciuto come un grande l'aziale. Sono un grande l'aziale. Ma questo per noi non vuol dire niente. No. In questa serata i cugini sono ben accetti. Più semmi è meglio stanno. Io vedo volentieri. Però, una domanda. Eh? Tu, che di solito stai sul palco, che intoni pure, grazie Roma, 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 Roma. Che senti dentro a vedere sto popolo giallorosso in festa? Sono tutti amici. Sono tutti amici. Quindi ti senti, per una serata, giallorosso pure te? Ti sento a casa perché sono mezzo torridale. Ma però, ti senti mezzo giallorosso? Sì, è vero. Ah, stai, sei grande. Siamo apposta, siamo amici. Come sento il giallorosso? Grande, grande Stefano, tieni. Oh, a Kikko! Ah, Kikko! Ah, bello! Forza Roma, Kikko! Dai, stasera fanno i botti, eh? Sì. E fa sentire la voce tua, dai. No, non so. Senti, oh, ma lo sai che ha fatto la Roma stasera contro l'Izze? 6 a 0 ha vinto. Tre go destro, due Osvaldo e uno Nico Lopez, un go da favola. Maravissima. No, non l'ho visto, ho letto la cronaca perché la fanno indifferita. Roma c'è ne la fanno indifferita. Vabbè, la vedremo. La vedremo. La vedremo. Appuntamento al 19 e poi al 26. Roma-Catania. L'hai detto? Roma-Catania poi? Roma-Catania al 26. Eccola! Questa è un'altra giallorossa. Ciao, guardate, mettete vicino a lei che vi riprendo. Queste sono le tifose giallorosse. Eh, che belle che so. Eh? Dice qualcosa. Cosa ti dico? Una forza Roma, no? Forza Roma. Belli!